Ok, la volta scorsa abbiamo visto come nel moto dei diversi corpi celesti attorno a un corpo massiccio principale, come potrebbe essere una stella, ma potrebbe essere un pianeta, come ripeto le orbite di corpi celesti, sono legate all'energia totale del sistema. E oggi vediamo un altro concetto importante legato sempre al concetto di energia, che è quello di velocità di fuga. Immaginiamo, fatemi fare un disegno, se riesco a fare un disegno a cerchio decente, che questa sia per esempio la Terra, o comunque un oggetto, un corpo celeste di massa M grande, con un raggio R, e sulla superficie di questo oggetto c'è un corpo M piccolo. Inizialmente possiamo dirlo fermo, quindi M piccolo è fermo, cioè la sua velocità è nulla. In queste condizioni, si trova quindi a distanza R dal centro del corpo celeste sul quale si trova, quindi la sua energia potenziale gravitazionale U grande, noi possiamo calcolare come meno la costante di gravitazione universale G maiuscolo, per la massa del corpo celeste su cui si trova, per M piccolo diviso la distanza dal centro del sistema, quindi R grande. D'accordo? Ok? E questo, se il corpo è fermo, è la sua energia totale, perché se è fermo l'energia cinetica è nulla. L'energia cinetica è zero. E quindi in quelle condizioni lì è soggetto alla forza peso, alla forza gravitazionale, e rimane nella situazione in cui si trova. Se facciamo un grafico, come quello che abbiamo fatto la volta scorsa, dove mettiamo in ordinata l'energia e in assisto la distanza dal centro del corpo celeste M grande, qui mettiamo U, allora la funzione energia potenziale, questa, ha un grafico che è, qui avete meno G M grande M piccolo, possiamo prenderla come una costante negativa e l'ordinata che è U è proporzionale all'inverso della ascissa che è R. Quindi abbiamo una curva che è un iperbole nel quarto quadrante. Quindi fatta a grosso modo così. Ok? Qui, ripeto, se l'oggetto è fermo, con la sua energia a distanza R, la sua energia totale è identica a quella potenziale. Questa E-Tot la distanza a cui si trova il corpo dal centro del pianeta è R, R grande, e lì rimane. D'accordo? Se osservate, ci siamo fin qua, e tot energia totale lo scrivo un poco meglio perché ahimè la mia calligrafia non è certo il massimo energia totale del sistema dove per energia totale invitiamo l'energia cinetica più quella potenziale ora osservate che se idealmente aumentassimo l'energia totale la distanza a cui l'oggetto può trovarsi rispetto al centro del sistema aumenta nel tempo perché questo punto dove la retta verde orizzontale si intersica con quella rossa si sposta verso l'esterno idealmente quando l'energia totale raggiunge il valore zero quindi quando l'energia totale raggiunge lo zero r può raggiungere valori arbitrariamente grandi dato che questo punto si sposta via via a distanze sempre più grandi dato che non c'è intersezione tra il grafico in rosso e la retta orizzontale ok r può arrivare fin dove si vuole in sostanza e quindi per fare in modo che questo oggetto sia lontani definitivamente dal corpo che lo attrae è necessario che la sua energia totale sia almeno nulla ok come faccio ad aggiungere energia a questo oggetto cambio il valore della velocità aumento l'energia quindi aggiungo una parte oltre alla potenziale aggiungo energia cinetica per cui il corpo raggiunge o meglio acquisisce la possibilità di allontanarsi indefinitamente dal corpo che lo attrae da questo corpo massiccio m grande se la sua energia totale diventa zero quindi se la sua energia totale che calcoliamo come un mezzo mv piccolo alla seconda meno g m grande m piccolo su r diventa zero quando questo succede la velocità alla quale in corrispondenza della quale l'energia totale è nulla si diventa il nome di velocità di fuga perché fuga perché a quella velocità il corpo acquisisce un'energia cinetica che bilancia l'energia potenziale quindi il totale diventa zero e quindi la la sua energia è sufficiente per così dire a sganciarsi dalla trazione gravitazionale del corpo stesso quindi può allontanarsi indefinitamente dal corpo stesso c'è una domanda perché è la velocità minima al di là della quale l'energia totale dell'oggetto è sufficiente a fargli raggiungere distanze arbitrariamente grandi quindi può allontanarsi indefinitamente dal corpo che lo attrae faccio un esempio semplice quando vengono lanciati i razzi dalla base di cape canaveral o da un che può andare entrare in orbito allontanarsi dalla terra il raggio si riesce a sfuggire alla trazione gravitazionale terrestre solo se la sua velocità è sufficientemente elevata quale velocità deve raggiungere la velocità di fuga perché altrimenti si allontana dalla terra ma se si muove troppo lentamente dopo un certo punto la forza gravitazionale è talmente intensa che lo rallenta lo ferma e lo fa tornare indietro come se io lanciassi un sasso in aria ok lancio un sasso in aria se non lo lancio con velocità sufficiente si alza ad un certo tratto si ferma perché la forza gravitazionale lo rallenta poi lo ferma e poi lo fa ricadere indietro qual è la velocità minima al di là della quale lancio il sasso e questo non torna più indietro è la velocità di fuga e quando è che riesce a non tornare più indietro solo se la sua energia è sufficiente a bilanciare quella gravitazionale quindi se ha abbastanza energia cinetica quella velocità minima al di là della quale riesce il sasso il raso differente cosa a liberarsi tra virgolette dalla trazione gravitazionale terrestre o del corpo di cui subisce la trazione si chiama velocità di fuga è abbastanza semplice dal punto di vista algebrico ricavasse il valore della velocità di fuga è sufficiente porre questa spostiamo a destra il termine potenziale quindi abbiamo un mezzo mv quadro vf velocità di fuga quadro uguale a g n grande m piccolo su r le due masse come vedete si semplificano m piccolo ed m piccolo a destra e a sinistra possono andare via moltiplico per due e ovvi quadro che vale due volte g m fratto r e prendo la radice quadrata 2 g m su r questa grandezza prende il nome di velocità di fuga quindi se ho cosa ci dice questa relazione se ho un oggetto attenzione qui la massa dell'oggetto non c'è m piccolo non c'è più se ho un oggetto che si trova a distanza r grande da un corpo di massa m grande che lo attira gravitazionalmente allora la velocità minima oltre la quale il corpo si riesce a allontanarsi indefinitamente da m grande è data da questa espressione perché c'è un mezzo da questa parte per togliere un mezzo di moltiplicare per due facciamo l'esempio della terra ok qual è la velocità minima a cui devo lanciare un raso dalla terra per fare in modo che si allontani e non ricada sulla terra una volta che lanciato per la terra che diamo vediamo qua sotto abbiamo vi ricordo che la massa della terra l'approssimiamo a 6 per 10 alla 24 kg il raggio terrestre r è 6400 chilometri quindi 6,4 per 10 alla 6 metri e g al solito vale 667 per 10 alla meno 11 newton per metro quadro fratto chilogrammo alla seconda quindi l'abilità di fuga per un corpo sulla terra di fuga per un corpo sulla terra non dipende attenzione della massa del corpo stesso e vale radice quadrata di abbiamo la radice 2 per 6,67 per 10 alla meno 11 newton metri quadri chilogrammi alla seconda per la massa della terra 6 per 10 alla 24 kg diviso il raggio terrestre 6,4 per 10 alla 6 metri qui procediamo come al solito abbiamo la calcolatrice facciamo prima sulla superficie della terra attenzione calcoliamo due per 6.67 per 6 di nuovo e diviso 6,4 quindi ci occupiamo dei coefficienti e sotto radice ci viene 12,506 per 10 alla più abbiamo meno 11 più 24 e meno 6 il 10 alla 7 mi porto fuori metri al secondo prendiamo la radice quadrata di questo numero e abbiamo se ho fatto i calcoli decentemente 11 18 3.02 metri al secondo quindi circa 11.2 chilometri al secondo si certo questo è una virgola scrive ok quindi se voglio lanciare qualcosa che si possa staccare dalla trazione gravitazionale della terra quindi che se ne vada e non torni indietro devo lanciarlo con almeno questa velocità ok se invece sono quindi se voglio mandare che ne so il raggio Apollo sulla luna deve sganciarsi dalla terra deve partire con questa velocità se invece sono sulla luna è chiaro fin qua se fossimo sulla superficie lunare quindi sulla luna scusate un secondo che scrivo un po' meglio certo dipendentemente dalla massa del razzo deve partire con quella velocità chiaramente più il razzo è massiccio più carburante mi serve perché perché il carburante serve per farli acquisire l'energia cinetica sufficiente e quello dipende dalla massa ma la velocità è la stessa ok è più costosa per far partire un razzo grande piuttosto che uno piccolo perché mi serve più energia per farli raggiungere la velocità di fuga perché l'energia dipende dalla velocità ma anche dalla massa meno costa 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 meno cost che si trovi sulla superficie lunare vale sulla formula è analoga che avremo due volte sempre g qui però la massa della luna stavolta diviso il raggio lunare ok g l'abbiamo appena visto fatemi andare a recuperare i dati della luna la massa della luna vale 7,3 per 10 la 22 kg che vediamo qui abbiamo il raggio lunare questa tabella ci dà il diametro ma non fa niente viviamo per due questo il 737 chilometri quindi 1.7 per 10 alla 6 metri e con questi dati possono calcolare prego certo il dati il la voce di fuga dalla luna e qui dà il diametro non so se riuscite a vederlo quindi questo lo dividiamo per due per avere il raggio grande la costante di gravitazione universale 667 in 10 alla meno 11 torniamo alla nostra pagina e quella qua e calcoliamo la velocità di fuga di un corpo sulla superficie della luna certo mentre quella di prima era sulla terra la relazione è la stessa ok vado allora sempre la nostra radice quadrata di due volte g cioè se qui c'è un per 6,67 per 10 alla meno 11 newton metri quadri diviso chilogrammi la seconda per la massa della luna stavolta 7,3 per 10 la 22 chilogrammi e ancora diviso a prossimo 1,7 per 10 alla 6 metri quindi qui abbiamo al solito 2 per 6.67 per 7.3 diviso 1,7 e viene sempre sotto radice 57,286 per 10 alla abbiamo meno 11 più 22 meno 6 5 e quindi prendiamo la radice di questa grandezza del c quadrata 57.286 per 10 alla 5 e viene 239 3.4 mentre secondo quindi circa 2,4 chilometri al secondo ok ci sono domande torniamo a dare un attimo un'altra occhiata alla relazione da qui eccola qui per come è fatta la velocità di fuga è evidente che non dipende dalla massa del corpo che vogliamo far scappare tra virgolette ma dipende dalla radice quadrata di questo rapporto m su r g è sempre lo stesso una costante quindi se un corpo celeste è molto massiccio sarà più difficile scappare perché mi serve una velocità più grande ma la velocità è ancora più grande se a parità di massa il corpo è molto piccolo quindi sono un corpo massiccio ma piccolo quindi molto denso la velocità di fuga è grande quindi se riesco riuscissi a comprimere r quindi riesco ad avere un corpo molto denso quindi a tanta massa ma in poco spazio la velocità di fuga diventa più elevata in base a queste considerazioni già nel settecento quindi molto prima dell'epoca attuale un laplace in realtà ma ancora uno prima di lui si è chiesto ma se riuscissi a comprimere una stella o un pianeta un corpo celeste a una ragione a dimensioni sufficientemente piccole affinché affinché la velocità di fuga raggiunga quella della luce c'è la velocità della luce ci sta per celeritas è un termine latino allora da quel corpo celeste metti che questo sia il raggio sufficientemente piccolo affinché la velocità di fuga raggiunga questo questo valore non esce nemmeno la luce neanche luce se ne scappa da questo corpo celeste questo corpo diventa nero certo ed è quello che chiamiamo buco nero perché in cielo apparirebbe come una zona da cui non viene neanche una piccolissima luce ripeto abbiamo il seguente concetto se ho due corpi a una certa distanza l'uno dall'altro qui il corpo m grande posso pensarlo concentrato nel suo centro allora la trazione gravitazionale tra un corpo e l'altro fa sì che il sistema acquisisca una certa energia potenziale che è data da questa espressione ok il cui grafico è rappresentabile come un iperbole nel quarto quadrante d'accordo abbiamo visto che se aumento l'energia di questo oggetto quindi se lo faccio muovere scrivo energia cinetica aumento a parità di energia potenziale aumento l'energia totale e posso aumentarla fino a che non raggiungi un valore nullo al valore nella quale situazione la distanza tra m piccolo ed m grande può raggiungere questo valore di r può raggiungere valori grandi quanto si vuole perché questo grafico non interseca l'asse orizzontale quindi quando l'energia totale del sistema è nulla il sistema si dice diventa slegato cioè il corpo m piccolo può allontanarsi indefinitamente cioè senza tornare mai più dal corpo m grande ok come faccio a fargli raggiungere questa energia beh è sufficiente che data l'energia potenziale al quale si trova che è legata alla distanza a questa energia aggiungo una parte di energia cinetica cioè un mezzo mb alla seconda quanta me ne serve? beh me ne serve tanta da cancellare questa da fare in modo che il totale sia zero se voglio realizzare quindi questa condizione quale energia cinetica devo dargli? ovvero sia a quale velocità devo farlo muovere? devo farlo muovere a una velocità che diventa quella di fuga cioè la minima necessaria a rendere nulla l'energia totale perché nulla? perché è il solo è il valore minimo al di là del quale la distanza tra i due oggetti può raggiungere qualsiasi valore anche i valori infinitamente grandi quindi sono, si slegano questa grandezza, la velocità di fuga da un corpo, dall'attrazione gravitazionale di un corpo celeste di massa m grande ha questa espressione il mio oggetto si trova a distanza r da questo corpo m grande che lo attrae? ok, allora per andarsene deve raggiungere almeno questa velocità ma la velocità di fuga dipende sì dalla massa del corpo che mi attrae ma anche da quanto sono lontano ok, quindi se sono sulla superficie della Terra questo sarà il raggio terrestre se sono sulla superficie della Luna questo è il raggio lunare però è evidente che se la Terra, ipotesi avesse massa che ha ma un raggio molto più piccolo allora per allontanarmi dalla Terra dovrei muovermi via via sempre più velocemente c'è un raggio al di sotto del quale la velocità raggiunge il valore della velocità della luce certo che c'è, dopo lo calcoliamo se la Terra si comprimesse diventasse a parità di massa via via più piccola in modo tale che la velocità di fuga calcolata sulla sua superficie raggiunge la velocità della luce significa che dalla Terra non scappa nemmeno la luce perché la velocità necessaria ad allontanarsi dalla Terra è superiore a quella velocità quindi da lì non esce nemmeno la luce per cui questo oggetto ipotetico in cielo se ci fosse parliamo ancora meglio del Sole se il Sole si comprimesse in modo tale da diventare più piccolo del raggio sufficiente che adesso ripeto calcoliamo vorrebbe dire che dal Sole da quella stella non esce neanche la luce quindi non lo vedo più diventa un oggetto nero che non emette nessuna radiazione diventa quello che in termini moderni chiamiamo buco nero perché buco? perché nella struttura dello spazio del cosmo si presenta come qualcosa dove non vedo niente non c'è niente anche se in realtà la massa c'è però da lì non viene nessuna luce quindi io non lo vedo anche se ne vedo gli effetti gravitazionali perché in realtà la massa lì si trova quindi per capire quant'è questa distanza non facciamo altro che utilizzare l'espressione della velocità di fuga radice di 2 gm diviso r e la mettiamo uguale al raggio c della luce possiamo invertire questa elevando al quadrato e risolvendo per r ecco se un oggetto che ha una data massa supponiamo che sia di tipo sferico abbia dimentica sferica avessi un raggio uguale o più piccolo di questo allora dallo spazio che lo circonda non si potrebbe allontanare nemmeno la luce questo raggio particolare prende il nome di raggio di Schwarzschild dal tizio che dal ricercatore che l'ha introdotto e quindi se un oggetto fosse così denso ripeto catturerebbe perfino la luce vi ricordo che la velocità della luce c è 300.000 km al secondo quindi 3 per 10 è la 8 metri al secondo quindi ovviamente deve essere un raggio molto molto piccolo per il sole per esempio mi ricordo che la massa del sole è andiamo 2 per 10 alla 30 mi pare chilogrammi possiamo calcolare il raggio di Schwarzschild cioè il raggio al quale il sole diventerebbe un buco nero ed è quindi 2 per G grande quindi 6,67 per 10 alla meno 11 kg per la massa del sole 2 per 10 alla 30 kg diviso 3 per 10 alla 8 metri al secondo tutto al quadrato e otteniamo 2 per 6,67 per 2 ancora diviso tra la seconda che fa 9 quindi 2,96 3 per 10 alla meno 11 più 30 meno 16 quindi circa 3 km 3 per 10 alla meno 11 cioè meno 11 non kg scusa sì certo sono newton per l'unità di misura di G quindi newton metri alla seconda su chilogrammi alla seconda certo quindi se il sole si contraesse e avesse raggiungere un raggio di meno di 3 km non lo vedremo più non metterebbe più non solo la luce ma nessun tipo di radiazione perché in realtà tutte le radiazioni viaggiano a velocità della luce diventerebbe un oggetto nero in cielo dimmi ma se la velocità è la velocità minima se viaggio sopra la velocità di fuga comunque mi sgancio dalla trasforma gravitazionale perché raggiungo distanze comunque infinite la velocità di fuga è la minima velocità alla quale devi andare per riuscire ad allontanarsi indefinitamente qui se un corpo avesse questa densità quindi questo raggio se il sole avesse questo raggio non riuscireste ad allontanarti mai più perché la velocità della luce in realtà è la più alta velocità che qualsiasi oggetto fisico può raggiungere il nostro universo siccome niente va più veloce niente può sfuggire da questa distanza se sono più lontano ce la faccio capiamoci se sono abbastanza lontano la velocità di fuga è più bassa ma se mi avvicino al sole per più di quella distanza posto che lui sia diventato un buco nero non scappo mai più qui si dice che questo è una distanza se valico questa non torno più indietro ok domanda domanda da mille punti esistono oggetti simili in natura i buchi neri la risposta è sì perché fino a non molti anni fa secondo ero studente allora tanti anni fa questo era dubbio c'era un unico corpo celeste che si presumeva avesse questa caratteristica questa struttura che era un oggetto nella costellazione del cigno e come fa uno a accorgersi se è nero come fai a accorgerti che esiste ok ti accorgi che questi corpi esistono in cielo non perché non li vedi ma perché normalmente sono i buchi neri lasciatemi l'abbreviare sono il prodotto dell'evoluzione stellare se una stella è molto massiccia non è il caso del sole nostro ma se una stella è molto massiccia diciamo una massa stellare maggiore di 5 10 volte la massa del sole allora le sue ultime fasi evolutive vedono una questa è la metà che sia la stella vedono un collasso quando la stella non è più in grado di cioè il motore interno si è spento se volete discuteremo di qual è il motore interno la la massa di cui la stella è fatta non ha più sostegno non c'è più nessuna forza sufficiente a mantenere la struttura che ha per cui collassa sotto il suo stesso peso il peso della stella è tale che viene compressa dalla sua stessa gravità e raggiunge dimensioni inferiori a quella del raggio critico di quello di Schwarzschild per cui diventa un buco nero cioè il collasso gravitazionale non ha nessuna sorgente di energia in grado di arrestarlo ok e quindi diventa un puntolino letteralmente che collassa a un punto e questa è una frontiera nella ricerca scientifica perché in realtà nessuno sa cosa succede in quel punto e c'è una sfera ideale che ha un raggio proprio uguale a quello di Schwarzschild al di sotto del quale se un oggetto cade al di sotto di questa distanza non può più uscire da questa zona proprio perché in questa questa distanza la velocità di fuga diventa uguale a quella della luce questo prende il nome di orizzonte degli eventi ed è proprio una superficie di se volete discontinuità spazio-temporale cioè qui all'interno di questa zona succedono cose che normalmente non succedono per capire le quali è indispensabile avere uno strumento matematico molto potente che si chiama relatività generale che non abbiamo di trattare ovviamente ok e però in queste condizioni ripeto se la stella è collassata d'accordo e quindi non emette più luce come faccio ad accorgermi che c'è? me ne accorgo perché le osservazioni astronomiche ce lo dicono perché normalmente la maggioranza dei sistemi stellari si tratta di sistemi multipli cioè dove ci sono più stelle quelli abbondanti sono i sistemi doppi cioè le stelle sono a coppia ok e ci sono delle fasi in cui una delle due stelle è sufficientemente massiccia in modo tale da evolvere in un buco nero e poi ce n'è un'altra che le orbita attorno ok le gira attorno a un sistema doppio quindi sono legati ok e questa durante la sua evoluzione se non è sufficientemente massiccia non diventa un buco nero però perde la parte che si chiama atmosfera stellare che le sta attorno perdendo questa fatemi disegnare in cannes o in arancione questa parte di massa attorno alla stella compagna cade verso il buco nero e per la trazione gravitazionale e cadendo emette una forma di energia emette una radiazione che può essere osservata solo in queste condizioni quindi noi sappiamo che esistono i buchi neri perché possiamo in grado di osservare questo tipo di emissione quindi la materia perduta dalla stella compagna prima di arrivare a questa distanza lì la luce si può scappare mette la radiazione tale che questa è visibile una volta che supera questo limite non è più visibile normalmente ci cade dentro per cadere dentro perde energia viene emessa un'energia elettromagnetica che è talmente forte talmente intensa che può essere prodotta solo in quelle condizioni una situazione un caso un oggetto che realizza questo è per esempio il centro di qualsiasi galassia ogni galassia il suo centro ha un sistema talmente massiccio nel centro della galassia nostra della via Lattea ha un occiolo un buco nero centrale di almeno una dai 3 ai 4 milioni di masse solari non so se avete sentito qualche anno fa nel 2016 è stata annunciata la scoperta delle onde gravitazionali che sono state prodotte da due buchi neri di 30 masse solari circa che sono si ruotavano uno controllato e poi si sono fusi questo evento produce un'alterazione nello spazio-tempo che si chiama onde gravitazionale e può essere prodotta non di quel tipo solo da due sistemi che sono sistemi di questo tipo cioè gli oggetti estremamente densi e si pensava che fossero talmente debole che non potevano neanche essere osservate le onde gravitazionali invece sono state rilevate e questo ha fruttato il primo Nobel a chi le ha scoperte perché è una grossa scoperta quando io ero studente di dottorato di BSD e sul mio libro di testo c'era scritto sì facciamo anche questo argomento ma in realtà è quasi tempo perso perché comunque le onde gravitazionali non le vedremo mai perché sono troppo deboli e invece do a distanza di 20 e basta 25 anni sono state rilevate quindi valeva la pena studiare anche per quello perché mi avviso non sta per suonare se non ci sono domande ci fermiamo qua ok